musica 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 copriti che cosa? un rosa tu lo sai che io tanto la finisco quando tu devi fare gli esami di prevenzione ancora con sta storia della prostata e si capisce dopo una certa età tutti ci dobbiamo controllare io mi controllo e ti ha controllato pure tu se no fino a quel momento in punizione va bene mi hai convinto domani si vado oh rosa sentite non ci faccio perdere tim rosa quattro spot brillanti per promuovere la prevenzione del cancro alla prostata il tumore più diffuso fra gli uomini oltre i 50 anni che può essere efficacemente curato se individuato con una diagnosi precoce attraverso alcuni semplici esami purtroppo il cancro alla prostata non dà dei segnali diversi da quelli della prostata buona quindi l'unico modo è saper coniugare il PSA che è un marker importante però con la visita e con l'ecografia e solamente questa triade cioè PSA, visita ed ecografia permettono di fare una buona diagnosi un'importante iniziativa viene dalla fondazione prosud presieduta dal professor Mirone che ha attivato un camper itinerante che offre visite gratuite nelle piazze napoletane nelle aziende negli enti nei centri commerciali e col comune di Napoli abbiamo avuto la possibilità di far girare il nostro camper l'unità mobile per fare visite gratuite in tutte le piazze napoletane e quindi qui veramente abbiamo avuto una grossa mano da parte del comune e quindi io veramente voglio dire ancora una volta che queste sono le migliori sinergie è una visita medica se solo pensi può salvare la vita insomma ne vale la pena sotto la guida del regista Giuseppe Bucci sono sei gli attori napoletani che si sono prestati ad interpretare gli spot ispirati al celebre film di Vittorio De Sica L'Oro di Napoli una banale visita veramente che è sciocca ed è sciocco molto sciocco non farla io stesso l'ho fatta varie volte insomma per un ditino insomma si possono risolvere parecchi eventuali problemi quindi insomma fatela non c'è proprio niente i napoletani in generale tendono a non credere siamo stati abituati troppo a servire e nel servire e nel servire si finisce con non credere nelle proprie capacità di ribellarsi anche alla malattia bisogna ribellarsi nel modo congruo nel modo attrezzato e la prevenzione è il modo più attrezzato per combattere le malattie grazie grazie Grazie.